Pino Donaggio, 80 anni, il 24 novembre, auguri maestro, è appena uscito un libro. Pino Donaggio e Anton Giulio Mancino come sinfonia. Prefazione di Terence Hill, Baldini e Castoldi. E Pino Donaggio presenterà il libro e con lui chiacchiereremo a stile italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti. Una vita intensa, anzi tre vite, musicista classico, cantante di musica leggera, la sua Io che non vivo, io direi anche come sinfonia, ma anche altre canzoni stupende e poi una carriera come autore di colonne sonore da film, da Brian De Palma ai maestri del cinema americano, al cinema italiano e tante tante altre cose. Vi aspetto con Pino Donaggio su Radio Hemingway, Stazione Universo, Radio Blu Italia, Onda Radio Firenze e altre radio. Ascoltate spezzoni della trasmissione. Presentiamo questo libro, Come sinfonia, che io l'ho letto con estrema attenzione. La storia di Pino Donaggio l'avevamo in parte rifatta in una puntata di questa trasmissione, stile italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti, ma direi, se non sbaglio, che è una sorta di romanzo, perché la vita di Pino Donaggio è come un romanzo, una grande vita, tante vite. Beh sì, ho cambiato minimo tre volte quello che dovevo fare. Io ero partito per fare il violinista, forse l'ho già detto, e il mio sogno era quello di fare il concertista. Poi per una serie di ragioni ho cominciato a scrivere delle canzoni, poi ho fatto sentire a Mina. Mina doveva fare la Sanremo, lei come sinfonia, invece aveva altre due canzoni, non l'ha fatta, e mi sono trovato a cantare io a Sanremo. Poi sono passato al cinema e anche là per una coincidenza, se vogliamo, perché io penso al destino, insomma, che dovevo cambiare, dovevo cambiare qualcosa. E ogni volta mi sono buttato in queste esperienze diverse. La prefazione di Terence Hill, cosa dire di Terence Hill? Beh, sono molto amico, veneziano anche lui, poi da quando abbiamo fatto assieme Don Camillo, ho fatto poi insieme le musiche delle sue serie, che ha fatto diverse cose, in più per ultimo Don Matteo. Quindi siamo amici, è una persona squisita, anzi, fantastico lui. Il libro nasce più o meno quando? Ma è il periodo del primo lockdown, diciamo, della prima fase del Covid, perché lui era venuto a trovarmi prima come un semplice fan, cioè aveva dei dischi da farsi filmare, aveva delle lucranderie di film, e poi quando è andato via mi ha chiamato un giorno e dice ma se facessimo una biografia, perché non è partita, non è partita lui. Allora io ho pensato anche a una volta che sono andato a Sanremo a prendere il premio per Io che non vivo, era il 2015, Carlo Conti mi ha fatto questo omaggio, insomma, facendo vedere Elvis, che cantava Io che non vivo, facendo vedere Dusty Spring, facendo vedere Mina, e alla fine quando sono uscito è entrata la Virginia Raffaele, e lei fa sentito una battuta, abbiamo visto Pino Donagio che anche i suoi parenti credevano fosse morto, e là siamo venuti tutti a ridere così, ma questa battuta, da una da spettacolo poi, vuol dire che non sapeva niente di me, cioè non sapeva che erano 45 anni, che scrivevo per il cinema, tanto in America, in Germania, in Italia, e allora dico ma perché no? Allora faccio la biografia, metto perché ho smesso di cantare, perché ho cominciato il cinema, e tutte le cose che ho visto che tanti non sanno. 80 milioni di copie vendute nel mondo di Io che non vivo! 80 mi sono fermato perché c'erano troppi fogli da contare. Troppi, eh? Sì, sì, non so quanto ha fatto alla fine. Tutto nasce casualmente da un film appunto che ha come ambientazione Venezia. Sì, e il film è Don't Look Now, che in italiano è tradotto a Venezia in dicembre Rosso Shock, bruttissimo titolo secondo me. Ma lì ero, che tornavo da una serata, mi ha visto un produttore del film, però lui mi ha visto passare l'evaporetto, e ero solo davanti l'evaporetto perché ero stanco, ed era una notte che avevo guidato, insomma. E a un certo momento, siccome il film era di parapsicologia, ha pensato che fosse un'immagine mandata da Adelaide, e quindi dovevo fare la musica di questo film. E lui ha insistito fino alla fine. Mi ha voluto presentare il regista, il regista mi ha detto cosa voleva, mi ha dato una settimana per provare a fare dei temi, e poi quando gli ho fatto ascoltare, sono piaciuti a tutti, il regista è un entusiasta, tanto è vero che nella scena d'amore del film ha appoggiato sempre la mia musica, hanno montato sulla mia musica, diciamo. Ho vinto il miglior colonna sonora dell'anno, e da lì ho cominciato a pensare di lasciare di cantare. Il secondo posto era Paul McCartney con Operazione Tuono, intanto così per dire un'altra chicca. E lì ho iniziato e ho continuato, insomma. Grazie a tutti.